Claudio è un imprenditore agricolo e ha subito un infortunio sul lavoro. Grazie a INAIL ha acquistato un trattore adattato alle sue esigenze. Anche in un momento difficile come questo i progetti di reinserimento lavorativo continuano ad offrire sostegno ai lavoratori vittime di infortuni o malattie professionali. Quando sono sul trattore mi sembra di volare. Scopri come ottenere i finanziamenti su inail.it INAIL, la persona al centro del nostro impegno. Grazie a tutti.